Gentili telespettatori buona giornata. Personaggi di sinistra si scagliano contro Matteo Salvini come Fratoianni che dice Salvini per un decennio è stato alleato di Putin, non è credibile come paladino della pace o come fattori che dice c'era un patto tra Salvini e il partito di Putin. Allora non è credibile come paladino della pace perché per un decennio era alleato di Putin, questa è una sciocchezza caro Fratoianni, questa è una vera e propria sciocchezza, cosa c'entra? Nel senso io spesso critico Salvini ma realmente che c'entra? Nel senso Salvini lo si può criticare perché andava in giro con la maglietta di Putin, perché aveva l'immaginetta in ufficio di Putin, lo si può criticare per il suo viaggio in Polonia che era evidentemente un viaggio di propaganda elettorale, gli si è ritorto contro, ma dire che negli anni passati la Lega aveva un accordo con il partito di Putin, ma che vuol dire? Andare a ritroso nel tempo per attaccare in base a quello che succede oggi, ma che vuol dire? Ad esempio io sono amico per dieci anni di una persona, poi fra cinque anni diventa uno dei peggiori uomini della terra e allora mi accusano tu eri amico, ma che cacchio vuol dire? Fratoianni per criticare Salvini ci sono mille argomentazioni, lo puoi criticare per mille e mille cose, ma non sulle cose che non stanno né in cielo né in terra, questo proprio dicevo ieri riguardo alle critiche su Salvini, le critiche devono essere giuste e giustificate, non bisogna ricamare su, no? Non bisogna ricamare su, ma Salvini aveva accusato la sinistra di saperlo solo insultare, non può pensare di recitare tutte le parti, sono dieci anni che sta con Putin, ecco questa fattoria anni è una cretinata, che cosa c'entra che non può pensare alla pace perché è stato dieci anni alleato con Putin, insomma sono paroloni, secondo me Putin neanche si ricorda chi è Matteo Salvini. Però Fratoianni vuole rispondere così al capo della Lega, dice Salvini si sente offeso dalle mie parole, le considera un insulto? Il segretario deleghista sbaglia, semplicemente non può pensare di poter fare tutte le parti in commedia e non essere criticato, per dieci anni è stato insieme al suo partito il miglior alleato di Putin in Italia e non solo politicamente a quanto si dice ora non è certo credibile come paladino della pace, ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Quindi va bene criticare Salvini perché le sue azioni sono assolutamente criticabili, in negativo, ma non bisogna criticarlo per cose che non c'entrano niente. Da sempre, poi dice il leader di sinistra italiano, il segretario e il suo partito hanno rappresentato la parte più ferocemente xenofoba verso i migranti, indicandoli come il male assoluto, esponendoli a pericoli e violenze. È sbagliato dire migranti, frato i anni. La Lega e i Salvini sono sempre stati contro i clandestini, cioè quei migranti che entrano in Italia senza avere i permessi, senza che sia un ricongiungimento familiare, senza che sia entrando in maniera illegale sul territorio italiano. L'entrata è illegale, non è che lo dico io, lo dicono le leggi italiane. Quindi anche quando si parla di migranti bisogna stare attenti a quello che si dice. Una cosa sono i migranti, quello che arriva in Italia con tutte le carte in regola e migra da un paese all'altro. Differente è il clandestino che arriva di nascosto in Italia e dice sono qua. Ecco, sono due cose differenti. Il migrante è permesso dalla legge italiana, il clandestino non è permesso, la sua entrata in maniera illegale non è permessa dalla legge italiana. Quindi anche qui, frato i anni, non mi sembri credibile. Ora davvero, dice frato i anni, i politici, vuole apparire come il buon samaritano? I politici devono essere innanzitutto coerenti. E questa che manca al senatore Salvini. Allora, frato i anni, io sono d'accordo che a Salvini manca la coerenza. È il politico più incoerente di tutti. Ma non perché era un fan di Putin. È incoerente per tante altre cose. Non c'entra niente che adesso fa il paladino della pace con chi era amico di Putin. Questa è una cretinata enorme. Salvini è incoerente per tutte le cose che abbiamo raccontato su questo canale per tanti e tanti mesi, per anni. Quindi i politici devono essere innanzitutto coerenti. Hai ragione. Salvini invece fa della incoerenza la sua bandiera e pensa così, di raccattare voti con l'incoerenza. Però lui cerca di apparire come il buon samaritano. Anche in questo caso hai ragione perché lui è andato lì in Polonia per un mero calcolo elettorale. È andato lì per lui, come altri politici, c'è un problema e ci si fiondano sopra per opportunità politica, per trovare elettori, per cercare elettorato. In questo caso lui voleva far vedere che era il buon Salvini, la colomba della pace. Lì io lo critico perché è andato lì, secondo me, per propaganda personale. Quindi ha sfruttato la situazione per un fine politico elettorale che è deplorevole. Ma non lo critico perché va lì ed era amico di Putin. Non c'entra niente. Io lo critico perché va lì per motivi elettorali. Che prima era amico di Putin. Amico? Ma quale amico? Questi di qui si saranno parlati una volta per sbaglio in un congresso, parlato in quattro parole in inglese. Ma quale amici? Da una parte c'è un leader di un paese, di cui c'era Salvini che faceva il ragazzo pon pon, il tifoso. Ma fare il tifoso salviniano non vuol dire essere amico. Cioè lui faceva l'amico, ma dall'altra parte non sapeva neanche chi era questo Salvini realmente. Lo avrà conosciuto per le magliette, avrà detto guarda che c'è un politico italiano che ti sponsorizza, va in giro con le tue magliette. Chi è? Ma è uno a capo di un partito, un partito che adesso è il primo partito. Primo partito in italiano ed è il fans di Putin con le magliette. E poi lì, chissà, non sappiamo, non ci sono prove. La magistratura sta indagando da tempo ma non ha mai trovato prove di legami di altro tipo tra la Lega salviniana e la Russia putiniana. fa anche rima. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui sul canale oppure nell'altro canale principale Tele Italia. Grazie a tutti e arrivederci.